Good morning a tutti voi e buona giornata. Mi trovo all'interno della nostra casa, anche se siamo nel refettorio che è stato adibito anch'esso a dormitorio, perché fuori c'è troppo chadel, diciamo noi, troppo rumore di bimbi. Allora, buona settimana a tutti, siamo al capitolo 19 di Matteo, ai versetti 27 e 29, quindi pochissimi versetti. Allora Pietro rispose, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? Gesù disse loro, in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. che significa essere parte della totalità del Cristo, del Cristo universale. Chi segue il Cristo ha il suo destino, la destinazione nostra è partecipare alla vita di Dio per sempre. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Pietro fa una domanda che potrebbe essere un po' ambigua, se vogliamo, che cosa ce ne viene in tasca nel seguirti? Ecco, e Gesù risponde quello che spero sperimentiamo nella nostra vita. Ecco, quando tu dai, quando tu ti metti nell'ottica della sequela di Cristo, che significa nell'ottica di una vita che non tiene a sé, ma da se stessa, beh, tu ricevi il centoplo, appunto, ricevi il centoplo. Io questo non lo so spiegare, l'ho sperimentato tante volte nella vita, ma penso che ognuno di noi l'abbia sperimentato. Quando non ti trattieni, ricevi, ricevi l'immensità, la gioia, l'entusiasmo. L'ho sperimentato in queste settimane, l'ho sperimentato da tanti anni in questi campi, ecco, perché se tu dai un pochino di te stesso, del tuo affetto, delle tue parole, dei tuoi atteggiamenti, del tuo stile, insomma, se tu ti fai prossimo all'altro, mamma mia, ricevi appunto più del centoplo, ecco, io ricevo da questi bimbi tantissimo. Abbiamo finito un turno e ancora una volta appunto sono stupito di come i bimbetti piccoli si affezionino, no? Mi viene in mente in realtà un episodio di 15 giorni fa, ecco, quando una bimba stava partendo per le vacanze e mi ha detto, ma non posso portarmi qualcosa, non posso prendere qualcosa di te e portarmelo via, no? E mi ha fatto quello che di solito gli adulti fanno ai bambini, che dicono ti mangio, ti mangio, eh? Ti mangio vuol dire, insomma, ti voglio così bene che ti vorrei dentro di me, no? E questa bimba ha fatto a me questa cosa, ecco, ti mangio e mi mangiucchiava tutte le braccia e le gambe, ecco. Ricevi il centoplo, se tu dai qualcosa ricevi il centoplo. E questo è bellissimo, ecco, e ce lo auguriamo tutti noi. Vi chiedo una preghiera, una preghiera di affidamento per questa nuova settimana, per questi nuovi bimbi che sono qui. e che sono una bella esplosione di gioia e che in qualche modo noi cerchiamo di di incanalare tutta questa forza, tutta questa energia di bimbi che vivono il campeggio, che lo hanno atteso da tanto in sequela, in sequela di Cristo. Ale, buona giornata a tutti voi. Oggi San Benedetto, ora e lavora due grandi pilastri della vita. Lavorare, fare le cose per bene e affidare tutto a Dio. Buona giornata a tutti voi.